Dico che non ci sono sette consiglieri, c'è un gruppo consigliare, tutti lavoreremo per portare avanti ciò che è utile per la nostra città, ognuno ovviamente nel suo ruolo. E dico anche che al sindaco, sebbene ci siano state, diciamo così, delle turbulenze, non è mai mancato l'appoggio dei consiglieri del Partito Democratico, non sono mai mancate le discussioni in aula, a sostegno e nelle commissioni. Rivendico di nuovo la capacità di ogni consigliere di adoperarsi per il bene, perché poi la capogruppo è una consigliera, ovviamente, su tutto il gruppo consigliare. Ogni consigliere del gruppo del Partito Democratico e della maggioranza deve lavorare perché questa maggioranza funzioni, ripeto, in base anche a quelle che sono ovviamente i livelli di responsabilità.